Per gli svitati sono in compagnia di Graziano Pra che ci farà assaggiare che vino? Il mio vino simbolo della mia cantina, eccolo qua, Suave Classico Montegrande 2020. Bene, io vado ad assaggiarlo, ti ringrazio. Venditi, comprati un branzino, metterlo nel sale e poi assaggilo con questo vino. Vado, vado, vado. Ma sarebbe un calice quello che mi hai dato? Sì, un assaggio. In realtà da un Soave non mi aspettavo questa intensità. Devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso, ha un'intensità pazzesca. L'azienda è Pra. Graziano Pra, sì. È un Soave, un Soave ottenuto con il 70% di Garganega e un 30% di Trebbiano di Soave. Ed è un vino che passa in legno da 32 litri e acquisisce questa complessità, questa nota un po' anche di vanigliata, questa nota morbida che a me fa impazzire. È un vino che mi ha piacevolmente sorpreso, veramente. Allora, intanto specifico una cosa. È uno dei 5 svitati che abbiamo conosciuto all'evento appunto degli svitati. Svitati perché? Perché ovviamente questi usano il tappo a vite per imbottigliare alcuni dei loro prodotti. Come dicevi tu appunto, sono subotti da 30 ettolitri e ci sta 10 mesi e fa la fermentazione e l'elevazione. Cos'è l'elevazione? È quella fase in cui il vino si eleva ad un livello superiore. Un vino di questo tipo qui ha, secondo te, longevità? Guarda, sicuramente sì, ma glielo chiediamo direttamente a Pra. Graziano, parlando di longevità, sappiamo che il tappo a vite migliora questa caratteristica, ma che longevità, che possibilità di invecchiamento hanno i tuoi vini? Il Soave è un vino di una grandissima longevità. Oggi abbiamo degustato un Soave base del 2010, che non sembra neanche lontanamente un Soave, perché si è mantenuto in una maniera eccezionale. Ma questo è dato dalla preparazione del vino, dalla qualità del vino, ma fondamentalmente è stato dato dalla chiusura. Il tappo a vite è quello che fa mantenere la longevità nella forma più bella e più buona in assoluto. Sappiamo che il tuo Soave è composto da garganega e trebiano. In che percentuali viene? La tradizione dice che il Soave lo puoi fare al 100% con l'uva garganega, oppure puoi usare un 30%, un'altra uva autottona di Soave, che si chiama trebiano di Soave. E questa è la tipicità, è il Soave, perché è importante che un vino di questo lignaggio sia riconoscibile. Perché la grandezza di un vino è proprio la riconoscibilità. Che abbia personalità. Personalità, ma la riconoscibilità, perché se lo inquiniamo con altri vitigni internazionali, come lo Chardonnay, come il Pinot Bianco, come il Risni, come altri vitigni che ti possono permettere, tu non riuscirai mai più a riconoscere quel vino lì. Perché chi mi dice che tu hai messo solo il 30% dentro, nessuno lo può fare. Nessuno lo può dire, ma può stravolgere la tipicità del vino. Che è importante invece per essere considerato un grande vino a livello mondiale. Anche per mantenere la tradizione. Per mantenere la tradizione, ma la riconoscibilità del vino è fondamentale. Bene, quindi sarebbe da mettere via qualche bottiglia, direi. Ma sicuramente da mettere via qualche bottiglia, anche per scoprire in realtà come può evolvere un vino tappato con tappo a vita. Ecco, una cosa che noi consigliamo sempre è che se vi procurate una bottiglia del genere, procuratevi anche la stessa bottiglia con il tappo in sughero. Le mettete via e fra 3-4 anni vi fate una bella esperienza di comparazione. Noi le abbiamo fatte e sono sempre state molto entusiasmanti. Però Mauro, ti vedo veramente soddisfatto. Mi ha veramente colpito perché sono note complesse che in un suave non sono abituato a sentire. Questa nota di pesca gialla, di frutta matura qua. L'evoluzione che il vino ha con un tappo a sughero. E l'appassionato del vino di solito si mette via il tappo a sughero perché vuole sentire la maturazione. Ce l'ha già. Qui abbiamo un vino già complesso, già evoluto con il tappo a vita. Quindi è un vino che potenzialmente mantiene queste caratteristiche per lunghissimo tempo. E a me questo fa entusiasmare. Ma tu sai come lo fanno? No, come lo fanno. Allora, la cosa che mi ha colpito è che loro la garganega a settembre tagliano il tralcio e la lasciano appassire per un mese. E devo dire che una morbidezza, una morbidezza, una dolcezza la si sente su questo vino quando lo mettete in bocca. Diciamo che le note che risaltano non sono l'acidità, le note dure, ma sono le morbidezze. Bene, io ringrazio Pra, ringrazio Pra, ringrazio tutti gli svitati che ci hanno fatto assaggiare vini veramente eccellenti. E complimenti, complimenti veramente perché è un vino straordinario. Un saluto a tutti gli svitati d'Italia. Poi lo chiudiamo e lo mettiamo in frigo. Fantastico.